Benvenuti su ClaudioMasci.com Siamo arrivati con questa la terza lezione sulla creazione di una rubrica telefonica in C Sharp e oggi andremo a completare la possibilità di aggiungere un contatto creando un file in XML Prima di iniziare creiamo un nuovo file, quindi andiamo su Esplora soluzioni, tasto destro sul progetto, quindi su rubrica telefonica Clicchiamo su aggiungi, nuovo elemento Dagli elementi diviso al C Sharp portiamoci su code, quindi il codice Selezioniamo file di codice e quindi aggiungiamo un nuovo file .cs e lo chiamiamo variabili.cs A questo punto ci crea un file vuoto Andiamo a creare una classe statica nella quale andiamo ad inserire delle variabili che poi andremo ad utilizzare nel nostro progetto Quindi scriviamo static class variabili Apriamo le parentesi graffe E al suo interno public static string percorso database Percorso underscore database uguale al momento mettiamo semplicemente le virgolette Abbiamo creato questa classe come statica In questo modo quando andiamo a richiamare la variabile Possiamo richiamarla semplicemente scrivendo il nome della classe .lavariabile Quindi non dovremmo andare a creare un nuovo oggetto della classe variabile Ma possiamo semplicemente richiamare quello già esistente Un esempio Se andiamo su aggiungi contatto Andiamo sul button aggiungi underscore click Se scriviamo semplicemente variabili.percorso database Possiamo riprenderci la variabile inserita in percorso database Quindi possiamo andare a prendere il suo valore e utilizzarlo in qualsiasi parte del nostro software E ovviamente possiamo anche Torniamo indietro Variabili.percorso database uguale Prova ad esempio Possiamo quindi anche assegnare un valore alla variabile presente nella nostra classe Se noi non avessimo creato la classe come statica Quindi semplicemente class senza static Non avremmo potuto richiamare la variabile Infatti ce la dà come errore Questo perché avremmo dovuto variabili Nuova variabile ad esempio Tanto questo poi lo andiamo a cancellare Uguale New variabili Ok avremmo dovuto instanziare la classe variabile A questo punto nuova variabile Punto percorso database Quindi l'avremmo dovuto richiamare così Facendo questo però Da una pagina all'altra Quindi da una schermata ad un'altra Avremmo dovuto instanziare nuovamente La classe variabili E in questo modo non avremmo potuto sovrascriverne il suo contenuto Quindi Non avremmo potuto salvare all'interno della variabile Delle modifiche fatte da noi o dall'utente Quindi nel nostro caso Visto che questa variabile ci servirà sull'intero progetto Quindi avremmo bisogno di accedere a questa variabile Da qualsiasi schermata Andiamo a dichiarare la classe come statica In questo modo possiamo richiamare il suo contenuto Ovviamente adesso Cancelliamo le tre righe perché non ci servono Dichiarandola come statica Possiamo richiamare il suo contenuto Da qualsiasi altra schermata E possiamo anche andarlo a modificare Quindi non andiamo ad instanziare una nuova istanza Un nuovo oggetto della classe Ma lavoriamo sulla stessa classe Andiamo ora a specificare il percorso del database Nel quale l'utente andrà a salvare i file aggiunti Quindi i contatti aggiunti alla rubrica Per farlo utilizziamo Quindi scriviamo using system Quindi andiamo a prenderci la classe principale system Il namespace system E andiamo ad utilizzare al suo interno il namespace environment Ovviamente se non avessimo scritto system Avremmo potuto fare la stessa cosa Scrivendo system.environment Punto get folder path Ok al momento lasciamolo così Come detto possiamo scriverlo per intero Al momento lo lascio così perché No anzi aggiungo using system Ok Using system in questo caso posso togliere system Environment get folder path Quindi vado a prendere il percorso di una cartella Environment special folder Quindi vado a scrivere environment.special folder Punto my document Quindi mi prendo il percorso della cartella documenti dell'utente Ovviamente punto e virgola finale Nel mio caso però non voglio salvare solamente all'interno della cartella my document Ma voglio aggiungere una sottocartella Quindi più esterno alle parentesi perché le parentesi ci servono per prendere il percorso della cartella Ma noi aggiungiamo esternamente Quindi dopo aver preso il percorso Andiamo ad aggiungere un nostro percorso Il percorso sarà slash rubrica telefonica Allora c'è un errore dopo vi faccio vedere come correggerlo Al momento vi scrivo il percorso che andremo a utilizzare Slash database Ok aggiungiamo anche uno slash finale Praticamente in C sharp quando aggiungiamo una slash all'interno di una stringa Dobbiamo sempre inserirne due Altrimenti la considera errore perché la considera parte del codice Quindi inseriamo sempre una doppia slash quando ne vogliamo inserire una Quindi se vogliamo far comparire una slash internamente a una stringa ne dovremmo aggiungere due In questo caso noi abbiamo scritto slash slash rubrica telefonica Ma nel percorso finale sarà semplicemente slash rubrica telefonica Stessa cosa slash slash database Slash slash finale In questo modo abbiamo creato il percorso nel quale il nostro software andrà a salvare il file XML che andremo a creare Volendo in questo file andiamo ad aggiungere anche altre due variabili Quindi public static string versione underscore software Uguale al momento mettiamo 0.1 la nostra versione 0.1 Questo poi lo utilizzeremo quando andremo a creare la pagina info del nostro software Ma per il momento comunque creiamo queste due variabili Public static string nome underscore software Uguale rubrica telefonica È utile salvarci il nome del software qui e richiamarlo all'interno del software Perché se un giorno decidessimo di cambiargli il nome Semplicemente ci basterà cambiarlo qui e verrà cambiato all'interno di tutto il software Invece se andiamo manualmente a scrivere rubrica telefonica su ogni schermata Cambiando nome ovviamente ci troveremo a dover cambiare il nome su tutte le schermate Quindi per quanto riguarda i nomi, le versioni È utile crearci una variabile che poi possiamo andare a modificare E avere la modifica su tutto il software Piuttosto che starci a ricontrollare in quale pagina l'abbiamo inserito Andarlo a modificare In questo modo non avremo tutti questi problemi Semplicemente lo cambiamo una volta per cambiarlo su tutto il nostro programma Quindi salviamo E ritorniamo adesso alla pagina aggiungi contatto Qui dovremo andare a far creare il file XML cliccando sul tasto aggiungi Abbiamo noi già inserito tutti i controlli Quindi andiamo a vedere I controlli finiscono Non mi segna Ok vediamo se ora la segna Ah giustamente non la segna perché avevo questa parte che posso cancellare Perché abbiamo creato poi la funzione per controllare l'email Tolgo un po' di spazi Ok Abbiamo quindi in message box dati inseriti correttamente Prima di questa message box adesso dobbiamo andare a fargli creare il file XML Quindi crea file XML e inserisci i dati Prima di proseguire con la creazione del file XML Vi ho creato un file XML di esempio che sarà praticamente la struttura del nostro file finale Quindi avremo la prima riga ovviamente che va ad indicare la versione dell'XML e la codifica Abbiamo il tag di apertura del contatto Nome Quindi apertura e chiusura nome Tag cognome Telefono casa Telefono ufficio Cellulare E-mail Sito web Data di nascita Indirizzo città Cap E note E poi abbiamo il tag di chiusura del contatto Quindi praticamente la struttura finale sarà questa Ovviamente all'interno di nome avremo il nome che potrebbe essere Claudio Cognome Masci Quindi diciamo che la struttura finale del nostro XML Quando lo andremo a salvare sarà di questo tipo Andiamo adesso quindi a generare il nostro file XML Quindi torniamo su aggiungi contatto Se volete potete salvarvi questo esempio ma in realtà l'ho fatto solo per farvelo vedere Quindi non è importante avere anche l'esempio XML all'interno del vostro codice Io ce l'ho giusto come promemoria me lo sono creato per andarmelo a rivedere Però non è fondamentale averlo Quindi ritorniamo su aggiungi contatto E andiamo quindi a crearci il nostro file XML Iniziamo prima di andare ad inserire il codice per creare l'XML Aggiungendo i riferimenti a UsingSystem.XML E UsingSystem.XML.link Ok Ritorniamo adesso al codice Prima di dati inseriti correttamente E andiamo a creare il nostro documento XML Ok Ci portiamo sotto al testo crea file XML E scriviamo xdocument Documento underscore XML Uguale new xdocument Apriamo parentesi tonda Aperte virgolette Contatto Quindi creiamo un nuovo elemento di tipo contatto Virgola Al suo interno aggiungiamo diversi elementi Allora abbiamo Intanto aggiungiamo il punto e virgola finale Ok Andiamo a capo E inseriamo il L'elemento Nome Quindi dall'esempio abbiamo nome, cognome, telefono Quindi iniziamo inserendo New x element Apriamo parentesi Apriamo e chiudiamo Nome Virgola Text underscore nome Punto text Ok Dobbiamo fare la stessa cosa per tutti i campi Quindi aggiungiamo una virgola Andiamo a capo New x element Cognome Virgola Text underscore Cognome Punto text Chiudiamo Per velocizzare il video Passerò direttamente alla parte finale Quindi non vi farò vedere l'inserimento di tutti i campi Andiamo direttamente alla fine Quindi metterò in pausa il video Inserirò tutti i campi E poi riprenderò Voi ovviamente inseriteli tutti Così andremo avanti E diciamo che così Voglio cercare di evitare di fare un altro video da 40 minuti Quindi Cerco di ridurre i tempi più possibile Ho inserito tutti i campi Quindi abbiamo il new x element Contatto Che contiene new x element Nome cognome E tutti gli altri dati Da inserire nel nostro File xml Gli x element sono Separati da una virgola Hanno due Attributi Il primo è il nome dell'elemento E il secondo il suo valore Assicuriamoci che Abbiano tutti la virgola finale E che Tutti ovviamente ad eccezione dell'ultimo Che deve terminare con una parentesi E poi abbiamo la parentesi di chiusura Del documento A questo punto Andiamo a Salvare il nostro file Quindi Scriviamo Documento Underscore XML Punto Save Qui gli dobbiamo passare Il percorso in cui salvarlo E il nome del file Il percorso è Variabili Punto Percorso Database Che è quello che abbiamo inserito qui Più il nome del file Per il momento Scriviamo 1.xml Infatti Se andiamo a vedere Il nostro form Il form iniziale Con la La tabella Nella quale andiamo a inserire i dati Abbiamo anche il campo id Che non abbiamo inserito Nell'aggiungi contatto Infatti non è presente Neanche Nel file XML Questo perché Intanto salvo Questo perché L'id Non lo salveremo All'interno del file XML Ma Sarà Il proprio Il nome del file Quindi avremo L'id Un file 1.xml 2.xml Eccetera Quindi utilizzeremo il nome del file Come id Per farlo ovviamente dovremo creare un ciclo Che va a verificare se un id è già presente Nel caso in cui fosse già presente Ce lo Ci va Ci avanza al successivo E quindi ci crea un nuovo file Per farlo quindi creiamo un file intero Controlla id Creiamo un file di tipo intero Chiamato id underscore file Uguale Gli assegniamo un valore di 1 Quindi creiamo un file Che parte da 1 Avviamo un ciclo while Che ci controlla Se Se Esistono file Con Con questo valore Quindi se c'è un file 1.xml Per farlo scriviamo System.io Punto file Punto Exist Quindi Andiamo a verificare se il file esiste Il file da controllare è Variabili Punto Percorso Database Più L'id del file Quindi id underscore file Più L'estensione xml Quindi Punto xml xml E Dobbiamo verificare che sia Uguale A true Quindi nel caso in cui Dovesse essere uguale a true Quindi se questo file esiste Semplicemente Aggiungiamo Un 1 Id file Quindi diventerebbe 2 Va a rifare il controllo Se 2.xml Esiste Va avanti 3, 4, 5 Fino a quando non trova Un file libero A questo punto da qui togliamo L'1.xml E aggiungiamo Id file Più Punto xml Proviamo adesso a salvare E avviare Il nostro programma In realtà Anche questa Situazione ci porterà ad un errore Intanto proviamo ad inserire i dati Inserirò solo nome e cognome Clicco su aggiungi Mi darà un errore Perché mi dice Che non è strutturato Correttamente Allora L'errore Dovrebbe essere New x element Ok Dovrebbe essere Perché ho chiuso Il blocco principale Contatto Subito Invece lo devo chiudere Alla fine Perché ovviamente Tutti questi I campi Sono interni All'elemento Contatto Questo è chiuso Ok dovrebbe essere Questo l'errore Quindi riavviamo E andiamo a verificare Se ora funziona Quindi Claudio Masci Aggiungi Giusto Adesso ovviamente Andato avanti Ci dice che Impossibile trovare Una parte del percorso Ed è giusto Perché La cartella Del database Non esiste E ovviamente Non ce l'andrà A creare in automatico Quindi cosa fare Ritorniamo su variabili E ci andiamo a creare Una funzione Public Static Ci andiamo a creare Una funzione Che Ci Controlla Se questo percorso esiste Quindi se la Cartella esiste Se non dovesse esistere Ce la va A creare La chiamiamo Controlla Percorso Database Ok E If Quindi andiamo subito A controllare System Giustamente If System Punto Io Punto File Punto No Giustamente Directory Punto Exist Quindi Se La directory Esiste Percorso Database Uguale False Quindi se la nostra Directory Non esiste Andiamo a crearla System Punto Io Punto Directory Punto Create Directory Percorso Database Ok Andiamo a richiamare Adesso Questa Funzione Prima Di Creare Il nostro File Quindi Ritorniamo Se aggiungi Contatti Qui Variabili Punto Controlla Percorso Database Ok Salviamo Ed eseguiamo Il nostro Software Vediamo se Ora Funziona La creazione Di un Contatto Quindi Claudio Masci Aggiungi Dati inseriti Correttamente Andiamo a vedere Se la cartella Esiste E cosa c'è Al suo Interno Ok Aprendo La cartella Rubrica Telefonica Database Al suo Interno Ho un File 1.xml Che se Mi trascino Su Visual Studio Posso vedere Che al suo Interno Avrò Nome Cognome E la data Di nascita Primo Gennaio 1900 Questo perché Automaticamente Mi imposta Primo Gennaio 1900 Se non Inserisco Niente Ovviamente Questo poi A livello Di programmazione Quando andiamo A ricaricare I file I dati L'andiamo Ad eliminare Quindi Attualmente La lasciamo Comunque Primo Gennaio 1900 In fase Di caricamento Lo togliamo Oppure Volendo Anzi Facciamo Così Sul New X Element Prima Di creare I dati If Quindi Non la facciamo Proprio Inserire La data Nel caso In cui Fosse 1900 If Ho sbagliato La parentesi Data Nascita Punto Text Uguale 01 Slash 01 Slash 1900 Allora Nel caso In cui La data Fosse Primo Gennaio 1900 Creiamo Una stringa Uguale Data Corretta Uguale Lasciamo La vuota Anzi No Gli passiamo Questo valore Quindi ovviamente String Data Corretta Uguale Data Nascita Punto Text Ok Gli passiamo Prima Questo valore Se Data Di Nascita Punto Text È Uguale A Primo Gennaio 1900 Allora Data Underscore Corretta Uguale Nulla E in questo caso Passiamo Data Corretta Invece Di Data Di Nascita Punto Text Salviamo Creiamo Un nuovo File Che a questo Punto Si dovrebbe Chiamare 2.xml Proviamo Con Mario Rossi Lasciamogli La data Primo Gennaio 1900 E aggiungiamo Data Inseriti Correttamente Creiamo Di nuovo Un nuovo Contatto Luigi Bianchi In questo Caso Cambiamo La data 1990 Ad esempio Primo Agosto 1990 Aggiungiamo Dati Inseriti Correttamente Andiamo A verificare I due File XML Appena Crecita Allora Possiamo Vedere Intanto Che La funzione Che ci Genera Diversi File Funziona Quindi Il while Funziona Andiamo ad aprirci I file 2 E 3 Su Visual Studio Vediamo Che per il file 2 La data Non c'è Quindi Funziona Per quanto riguarda Il file 3 Invece Abbiamo Il primo Agosto 1990 Quindi La nostra Modifica Che ci Carica La data Solo Nel caso In cui Fosse Diversa Da primo Gennaio 1990 Funziona Quindi Possiamo Salvare I nostri Contatti Nella rubrica Per questo Video è tutto Come sempre Se vi è piaciuto Vi invito a mettere Mi piace Commentarlo E condividerlo Per aiutarmi A far crescere Il canale E il sito web Così Da permettermi Di inserire Sempre maggiori contenuti E Vi ringrazio Per aver seguito Questo video Ci vediamo Al prossimo